Dal mio punto di vista non è un argomento all'ordine del giorno perché questa legge è una legge che mira a portare in carcere chi ha fatto violenza contro una donna. E quella norma non ha questo obiettivo, anzi ha l'obiettivo di permettere a chi non sta dentro il carcere di subire un trattamento di quel tipo, ma a me non interessa che quello stia fuori però con un testosterone più basso, a me interessa che quello stia dove deve stare e cioè in carcere. Dopodiché tutti gli argomenti che la Lega vuole porre all'ordine del giorno noi ci siamo sempre confrontati su tutto, ma su questa legge che ha l'obiettivo principale di diventare legge nel più breve tempo possibile dobbiamo arrivare in tempi rapidi all'approvazione finale rispetto agli obiettivi che ci siamo preposti. E ripeto, gli obiettivi sono di avere una tolleranza zero nei confronti di chi sbaglia perché le donne in Italia devono sapere che lo Stato è dalla loro parte e che senza tregua si muove per proteggerle da chi pensa di poter fare violenza. In Italia non c'è spazio per la violenza in generale e per la violenza sulle donne.